Un saluto a tutti e ben ritrovati! Rimaniamo oggi in casa Razer dopo la recente riscoperta della Black Widow e del D-Tadder con un EZ appartenente alla stessa serie. Rimanete con noi quindi perché fra poco si parla delle nuovissime Kraken Chroma! Le Kraken Chroma di cui parleremo oggi sono la naturale evoluzione delle Kraken 7.1, riviste però con un nuovo sistema di illuminazione multicolore per adattarsi meglio a stili differenti o magari a diverse periferiche. Parliamo di un EZ completamente digitale, quindi praticissimo da usare, con in più in dotazione un software che permette l'emulazione di un'esperienza multicanale surround completa. Delle performance però ci occuperemo poi meglio nella recensione sul nostro sito, ma per ora possiamo dare uno sguardo più da vicino. Come al solito Razer non si risparmia con la grafica, il bundle e soprattutto con i dettagli. Amano prendersi cura dei propri fan e questo include anche delle piccole cose come ad esempio questi sticker targati Razer. Le Kraken Chroma non saranno molto dissimili dalle Kraken 7.1, ma ci daremo comunque un'occhiata da vicino per quanti non conoscono questo headset in particolare. Parliamo di cuffie stereo, con padiglioni chiusi, nonostante la griglia nido d'ape qui possa far supporre diversamente. L'imbottitura è generosa in spessore, con un'apertura interna circolare di 50 mm di diametro. Così l'adesione alla testa sarà ottimale, grazie soprattutto alla mobilità della struttura, che è inoltre completamente ripiegabile. Abbiamo un peso di 340 grammi, più o meno nella media, che dovrà ripartirsi tra i padiglioni, così bene imbottiti, e la minima imbottitura che troviamo invece sull'arco. In aggiunta abbiamo un microfono digitale a scomparsa nel padiglione destro, che può essere estratto in questo modo e ripiegato nello stesso quando non più necessario. Un buon paio di cuffie si riconoscono anzitutto dai dettagli ingegnosi e di qualità, e sotto questo punto di vista le Kraken Chroma ci mostrano degli aspetti davvero molto interessanti. Se a questo aggiungiamo un efficace sistema di emulazione 7.1, otteniamo un buon prodotto sotto il limite psicologico delle 100€, buono sia per giocare che per l'intrattenimento domestico. Bene, il nostro appuntamento termina qui, ringraziamo Razer per averci affidato le sue Kraken Chroma e non dimenticate di seguirci ancora con il meglio delle periferiche gaming in anteprima solo qui su Next Hardware.